benvenuti in questa nuova ricetta oggi faremo la crema di patate porri ci servirà una patata grande dei porri io ne ho presi quattro nel pane raffermo e olio d'oliva per prima cosa dobbiamo pulire i porri e quindi dobbiamo togliere la parte finale la parte iniziale incidere con un coltello e levare la prima foglia poi andremo a sciacquare in acqua fredda e inizieremo la ricetta dopo aver tagliato le patate e i porri prendiamo una pentola con un po d'olio e mettiamo le patate facciamo andare le patate per qualche minuto dopodiché aggiungeremo i porri facciamo andare ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A quadratini, aggiungo un filo d'olio, metterò in forno per 8-10 minuti a 180 gradi. Dopo circa 35 minuti la nostra crema è pronta e ora dovremo andare a frullare. Prima di frullarla io ho tolto un po' di liquido per creare una densità maggiore. Andiamo a frullare. Grazie a tutti. Adesso che la zuppa è pronta passiamo all'impiantamento. Ho scelto ovviamente un piatto fondo ed ho decorato con i crostini preparati in precedenza e dei germoni di pisello. Come vedete è bella cremosa. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale e se cercate ulteriori ispirazioni seguitemi su Instagram. Ciao e alla prossima videoricetta!